E' pronto a tornare subito in campo il Ciliverghe dopo il successo in Coppa Italia a Mantova contro la Coppolista del campionato. La squadra di Carobbio è chiamata ad una nuova trasferta dove è attesa un fronte con la Savignanese domani alle ore 15. Abbiamo fatto una grande impresa mercoledì a Mantova però sappiamo benissimo che il campionato è un'altra cosa. L'abbiamo già vissuto all'inizio quando abbiamo fatto due partiti di Coppa Italia molto bene e poi ci siamo trovati a Crema a fare una prestazione un po' così così. Perché purtroppo il campionato per fortuna è una cosa completamente diversa, ci sono pressioni completamente diverse. Dobbiamo riuscire a sostenerle e riuscire magari a trasportare quella tranquillità e quella serenità che ci consente di giocare così bene in Coppa Italia anche in campionato. Il piano del recupero di Sola riporta a pieno regime la mediana mentre in difesa danno Forfè e Minelli, operato ieri al ginocchio e Garofalo. Con Ait Baklim ferma i box per l'infortunio alla Caviglia riportato contro il Mantova. Il periodo non è molto fortunato a questo punto di vista, studiamo infortuni che non sono muscolari quindi non da imputare a un tipo di preparazione particolare ma sono infortuni di tipo traumatico e che purtroppo ci privano di giocatori importanti. Però come sai benissimo non è il mio modo di parlare degli assenti ma abbiamo dimostrato benissimo col Mantova a mercoledì che pur giocando con ragazzi giovani che magari hanno giocato poco fino adesso abbiamo fatto comunque una partita importante. Questo mi dà grande fiducia per domani e sono sicuro che chi sostituirà gli infortunati lo farà al meglio. Quella contro i Rimagnoli, penultimi in classifica, è etichettabile come gara della verità per il Ciriverghe che non deve ripetere quanto è successo l'anno scorso contro il Classe per procedere nel suo processo di crescita. È ancora presto, sono passate quattro partite, è ancora presto per capire quali sono i veri valori di questo campionato quindi che la Savignanese abbia un punto a poca importanza nel senso che comunque non sappiamo ancora bene se questo è il reale valore di questa squadra. Io l'ho vista, è una buona squadra, con dei buoni giocatori che gioca a buoni ritmi e quindi dobbiamo affrontarla come se fosse la squadra più forte del mondo domani. Quindi perché? Perché comunque è un campionato difficile, un campionato dove ogni partita va giocata al massimo e va giocata fino al 96esimo. Perché abbiamo visto benissimo in queste ultime partite che appena caliamo la concentrazione facciamo rientrare in partita squadre che fino a quel punto sembrano morte. Quindi le partite vanno giocate fino alla fine, fino a quando l'arbitro fischia. Spero che la lezione ci sia servita in queste ultime settimane e da domani non le commettiamo più questi errori. Ancora i ragazzi non hanno ben presente quanto siano importanti le loro qualità, sia tecniche che morali. Vedo un gruppo che queste qualità ne ha, e ne ha tante, e ha bisogno ancora di più consapevolezza per metterle in mostra e per fare in modo che tutte le domeniche vengano messe in campo. Questo è un processo che può solamente migliorare se facciamo risultato. L'ho sempre detto che i risultati aiutano a compiere questi percorsi e domani dobbiamo andare a Savignano per vincere la partita. Perché aiuterebbe ancora di più ad aumentare la consapevolezza, le sicurezze e a farsi capire quante qualità sia morali che fisiche abbiamo.